50 vendemmie e non sentirle. Da vigneti di 50 anni, Cantina Valtidone ha selezionato l'uva per produrre la linea 50 vendemmie, i cui vini sono il frutto della loro storia enologica, iniziata nel 1966. 50 anni di sole e di pioggia, di impegno sempre rinnovato e di desiderio. 50 vendemmie è il simbolo della giovinezza ideale, del tempo che passa inesonabile ma che non scalfisce, anzi, esalta. I 220 soci della cantina, con le loro vite reali, antiche e moderne allo stesso tempo, rinnovano la loro passione per il vino ogni giorno, ogni stagione, ogni anno, dando vita a vini tipici della tradizione che contengono e narrano a voi che li assaggiate la loro storia. La bellezza della tradizione in una narrazione sempre nuova. È questa Cantina Valtidone. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.